Io sono un cliente Volkswagen, ho una maggiolino turbodiesel che ho comprato dopo che le norme europee mi hanno costretto a prendere l'Euro 5 perché le altre inquinavano. Quindi sono uno di quegli 11 milioni che hanno dei problemi. Quindi sono stato truffato, la Volkswagen la prima, non è l'industria, è la prima industria mondiale dell'auto oggi. Allora io mi chiedo ma se la signora Merkel che comanda il mondo, la signora Merkel, ci deve spiegare un po' come funziona perché ogni volta che c'è un problema la Merkel si muove. Allora ci devi dire che cosa è successo, se sapeva o non sapeva la signora Merkel di quello che capitava con la Volkswagen. Lo sapeva o non lo sapeva? Io penso che nella storia d'Europa, quando si parla dell'Azionale, ci sono stati i momenti più copi. Ecoutez-moi un instante, io non penso che il t-shirt che voi portate sia tutto adattato, non è adattato a questa incezione, non è adattato a questa incezione, e io penso che voi deve fare attenzione a questo che faccio. Votre t-shirt non è adattato non è adattato a questa incezione. che vuoi? Votre t-shirt non è adattato a questa incezione. Grazie. Grazie.